Allora, innanzitutto grazie per questa accoglienza, di darmi questo spazio, no? E anche grazie dell'ascolto, insomma, che in qualche modo mi dedicherete in questo tempo, insomma, di questa lezione. Io vorrei, diciamo, innanzitutto cominciare con un modo molto, probabilmente forse, didattico, di una didattica da liceo. Alzate la mano, chi di voi conosce il pensiero di Emanuele Vinas? Tu, tu, puoi molto poco, a grandi linee. Allora, quindi, la prima cosa che devo fare, secondo me, per evitare di parlarmi addosso, e invece, quindi, per entrare in relazione con voi, forse dirvi un pochettino chi è questo Emanuele Vinas, e come lo possiamo collegare ai temi di oggi, altrimenti poi, diciamo, come dire, dico qualcosa di, non lo so, troppo tecnico, e, insomma, vi sfugge questa cosa. Questo Emanuele Vinas, che era un filosofo lituano, lituano che è dovuto fuggire, tra l'altro, all'inizio del novecento, lui è nato nel 1906, è dovuto fuggire dalla Lituania, motivo, cioè, un famoso territorio anche di intolleranza, insomma, anti-ebraica, poi motivi della guerra, e studiò a Friburgo, tra l'altro, insieme con Heidegger, e fu allievo di Husserl. Quindi il pensiero di Levinas, che è famoso un po' per la sua etica, diciamo così, in realtà nasce alla scuola di Husserl. Alla scuola di Husserl, che, spero questo, diciamo, voi lo sappiate, in realtà si era fatto una domanda fondamentale, quali sono le categorie della conoscenza, ecco, volendo proprio schematizzare nel modo più, diciamo, volgare, probabilmente, il pensiero di Husserl, cercando di strutturare la filosofia come una scienza, una scienza rigorosa, però che riguarda le modalità con le quali la nostra mente perviene alla conoscenza, indipendentemente dall'esistenza reale delle cose, ok? Quindi una logica pura. Però Husserl si era trovato poi di fronte ad un concetto limite, e questo concetto limite è questo. Chi è l'altro? L'altro essere umano? Che io conosco, non come conosco tutti gli altri oggetti, c'è qualcosa di diverso, e voi, se sapete, Husserl elaboro il concetto di empatia per cercare, no, di rispondere a questa domanda. Levinas viene proprio da questa scuola, quindi la domanda fondamentale che si pone Levinas è chi è l'altro? Quale statuto epistemologico, gnosiologico, ontologico, anche se a Levinas questa parola non piace, ha l'altro, l'altro essere umano? E sommariamente, insommigati, posso dirvi questo, che appunto quando noi cerchiamo di rispondere alla domanda chi è l'altro, l'altro che in questo momento mi guarda, voi avrete sentito nominare Levinas con il volto, il volto degli altri, però devo dire poi spesso anche in ambito cattolico questa cosa è un po', secondo me è un po' ridotta, nel senso di un po' volemose bene, un'etica alla volemose bene. In realtà per Levinas il volto, l'espressione volto, indica non quella che lui chiama maschera, ma quella che potremmo chiamare un po' la chiità dell'altro. Nel momento in cui io cerco di rispondere alla domanda chi sei tu, chi sei tu, chi sei tu, che è una domanda intellettuale, ok? Quindi io devo utilizzare delle categorie degli studenti, una ragazza con la maglietta viola, con la camicia rosa, quindi sto utilizzando delle categorie, ma io nonostante aggiunga tanti elementi a questo contenitore di categorie, io non potrò mai sapere chi tu sei. Quindi nel momento in cui cerco di rispondere alla domanda chi sei, io sto rispondendo cosa sei. E vedete, sono due grandezze incommensurabili. E Levinas parte proprio da questa base e dice il rapporto con gli altri che noi abbiamo è reale, ma non è intellettuale, non è, si dice in germine tecnico, noetico, noematico. Non è un rapporto conoscente, conosciuto. Questo perché Levinas in qualche modo rompe, vuole rompere, tutta una, come dire, scuola secolare di primazia del soggetto, da Cartesio in poi. Io penso, io sono, io voglio, quindi tutto parte dalla certezza del Dio. Però questa stessa filosofia ha portato anche alle derive della, intendo dire, come facciamo a sapere che esiste una realtà al di fuori della nostra testa? Questo problema se l'era posto già Cartesio, che se vi ricordate diceva, poi io devo ammettere che ci sia un Dio che, come dire, confermi la certezza che ho del mio stesso io. Quindi diciamo, l'io penso, dunque sono, quindi esisto perché io penso, da Levinas viene messo in discussione. Perché? Immaginate di essere così, apriamo gli occhi al mondo, no? La prima cosa che vediamo, ciò che ci fa rendere conto che noi siamo dei soggetti pensanti, non è il fatto che io percepisca questo telecomando. Il telecomando lo percepisco con le categorie cantiane, ci siamo? Quindi io lo percepisco in modo noetico, noematico, conoscente e conosciuto. Ma l'altro che mi guarda, anche nel senso, vedete, più pratico del termine, in realtà mi sta già chiedendo qualcosa, mi sta già interrogando, mi sta già chiamando direttamente ad una responsabilità. Allora quindi dice Levinas, io prima che possa rispondere alla domanda io penso, io sono, cosa è questo, no? Queste domande che ci hanno a che vedere con l'essere, io mi trovo già interrogato dall'altro. Quindi in qualche modo questa primazia dell'io penso viene messa in discussione da Levinas. Prima dell'io penso c'è già l'altro, quindi c'è una primazia dell'altro. E questo rapporto però tra me e l'altro è reale, ma non è noetico, noematico, è etico. Quindi il primo rapporto, il rapporto più reale che noi abbiamo con la realtà, non è quello ontologico, dice Levinas, è quello etico. Ho saputo che voi state facendo proprio un discorso sull'etica. Vedete che per Levinas è la filosofia prima, dopo viene tutto il resto, intendo dire a partire dal fatto che l'altro mi chiede una responsabilità assoluta. Io dico, ma io chi sono? Io sono un soggetto. Che io sono un soggetto me lo dice il tuo sguardo, non me lo dice il telecomando. Che io penso, non è vero, ce lo dicono gli altri. Quindi paradossalmente c'è questa, come dire, perdita della primazia dell'io, no? Questo depiazzamento potremmo dire. Però per certi versi è una scoperta. Dice Levinas, no? In totalità infinito. Dice l'esteriorità, lui intende dire ciò che è esterno al nostro pensiero, alle nostre categorie dell'io penso, e si riferisce agli altri, non è la negazione dell'io penso, no? In modo hegeliano, non è una cosa dialettica, ma è un miracolo. Qualcosa di veramente nuovo. E vi dicevo, l'altro è colui che veramente mi rende soggetto, subiectum. Soggetto non in quanto sono piazzato e fatto, ma perché sono responsabile degli altri. A partire da questa cosa, quindi, Levinas costruisce tutta la sua filosofia, che, diciamo, è molto interessante, molto bella. Chi di voi si addentrerà, eh? Vi suggerisco soprattutto i testi, diciamo, sistematici che sono totalità infinito e poi soprattutto altrimenti che essere. Dove lui vuole riscrivere proprio una nuova filosofia nella quale non sia l'essere il centro delle argomentazioni, no? Tutto finisce, tutto comincia, tutto finisce in una domanda nella quale ci diamo noi stessi la risposta, ma sia un non azzerare il desiderio metafisico, ma alimentarlo proprio da questa esigenza etica. E lui con questa primazia dell'etica, in qualche modo, reintroduce nella filosofia anche il concetto di Dio. Perché Levinas dice, quando io dico Dio, non mi sto riferendo ad un Dio ontologico, il Dio che è morto, quel Dio lì, come vi ha detto giustamente Nietzsche, no? Non abbiamo nessuna risposta rispetto a questa domanda, ma nel rapporto che io ho con l'altro, un rapporto nel quale io l'altro non lo posso mai comprendere, l'altro non è mai concetto, l'altro non è mai presente come è presente questo oggetto a me. Levinas dice, in qualche modo c'è qualcosa che irrumpe nel mio presente, ma e proviene però da un altruve, da una dimensione di trascendenza. Allora questo fatto che nella mia zucca, nella mia testa, c'è qualcosa che in realtà non è concetto, è simile, come vi ricordate, a quello che dice Cartesio dell'idea dell'infinito. Non è un'idea fattizia, non è un'idea dentizia, ma è un'idea innata. Dio l'ha messa nella nostra zucca. E Levinas dice, poiché io riesco ad avere questo rapporto, non noetico noematico, ma etico con l'altro, un rapporto che mi chiede una costante messa in gioco di me stesso, è un rapporto all'infinito. Io mi relaziono ad una cosa che non è categoria, che non posso categorizzare, ma quindi sono in un rapporto diretto con l'infinito, cioè a Dio. Quindi quando dice, quando io dico Dio, intendo un termine significante, la cui significazione è proprio la deferenza, direbbe Levinas, che ho nei confronti degli altri. Ok? È difficile, lo so, è difficilissimo. Questo per farvi un cappello introduttivo di chi è Levinas. Ora, rispetto a questo, la conferenza di oggi si chiama Sionismo e Messianismo. Ora, detta così, no? Se chi di voi conosce Levinas, l'altro ha su di me delle pretese che sono assolute, eh? Io non sono soggetto, sono messo all'accusativo, dice Levinas. Come fu questo filosofo aver parlato di Sionismo? Perché? Quando? Che cosa dice? Il Sionismo e Levinas è collegato all'idea che lui ha di Messianismo. Però abbiamo nominato due cose che io non so se voi sapete. Allora vi faccio altre due domande, un po' retoriche, nel senso che probabilmente solo ha risposta. Voi sapete quanti tipi di Sionismo esistono? Il vostro silenzio è no. E sapete quanti tipi di Messianismo esistono? Nemmeno. Allora vi devo dire qualcosa sul Sionismo e qualcosa sul Messianismo. È come i Levinas in qualche modo si collegano. Allora, partiamo prima dal Sionismo, che è la cosa in realtà più, diciamo, il Messianismo, quello che ci permette di unire Sionismo e Levinas. Quindi parto dal concetto più distante, quello di Sionismo. La parola Sionismo è una metonimia, cioè il luogo, come quando noi diciamo il Campidoglio, il Quirinale, sia nel colle dove c'era il Tempio. E voi sapete, insomma, per Israele, intendo dire per la storia del popolo di Israele, Dio ci ha promesso la terra, Dio ci ha dato la terra, è un Dio che interviene nella storia in un modo concreto, molto concreto. E colui che le ha portati nella terra promessa, se vi ricordate, poi dopo l'evento egiziano è Mosè. Quando Mosè stava per morire, disse, verrà Dio, manderà un nuovo profeta che compirà le stesse opere che io compio. Da allora comincia, nella tradizione ebraica, a nascere l'idea che Dio manderà un nuovo profeta, come era stato Mosè. Mosè cosa aveva fatto? Aveva guidato il popolo nel deserto, gli aveva dato da mangiare, da bere, no? E gli aveva dato la Torah, gli aveva dato la legge, ok? Il Vangelo di Matteo, che so di recente voi avete esaminato, quando tratta la moltiplicazione dei panni dei pesci, che in realtà con la parola moltiplicazione non ci sta, è una divisione dei panni dei pesci, utilizza tutta una serie di numeri in riferimento a quella cosa che vogliono proprio indicare questo. Questo che vi stiamo presentando è il Messia come è stato il Messia Mosè, perché ci ha portati in un luogo deserto e ci è riuscito a far organizzare cinquemila uomini, dodiciceste, insomma ci sta tutta una simbologia che non è qua diciamo il caso di diciamo trattare. Quando poi Israele divenne un regno, e poi ebbe anche lui le sue guerre civili dopo la morte di soprattutto Salomone, con il figlio di Salomone, il momento, l'epoca aurea del regno di Israele era stato il regno di Davide. Quindi quando poi il regno si divise, il regno del nord, il regno del sud, insomma una divisione che si sono portati anche fino al tempo di Gesù, insomma intendo dire la Samaria, la Giudea, insomma i samaritani erano mal visti a motivo di questa divisione, si sviluppa un altro tipo di messianismo detto regale. Il Messia sarà Messia come profeta Mosè, sarà Messia come il re Davide. Tanto è vero sempre che nel Vangelo di Matteo, quando il Vangelo di Matteo apre, dice questa è la genealogia di Gesù, Abramo generò Isacco e poi alla fine dice così le generazioni da Adamo a Davide sono quattordici, da Davide all'esilio sono quattordici e dall'esilio a Gesù sono quattordici e voi dite a noi che ce ne frega. In realtà quattordici è la traslitterazione del nome Davide in numeri, perché gli ebrei per scrivere i numeri utilizzavano le lettere dell'alfabeto. Quindi una cosa che si chiama gematria, il nome Davide corrisponde al numero quattordici. Quindi Matteo nel dire tre volte quattordici sta dicendo Gesù è veramente discendente di Davide, è il Messia, quello promesso come il profeta così anche i re. Infine quando Israele andò in esilio, intendo dire nel 586 con Nabucodonosor e non ebbero il tempio, sui fiumi di Babilonia, va a pensiero, giusto per riportarvi alla memoria, mancava il rapporto diretto con Dio che per loro era l'arca dell'alleanza che stava nel tempio, la shekinah, la presenza reale di Dio, ok? E quindi loro nell'esilio a Babilonia dicevano il Messia profeta sarà anche un Messia che restaurerà il culto del tempio, anche lì giusto per citarvi il Vangelo, quando Gesù dice distruggete questo tempio, io lo restaurerò, in fondo fa riferimento al culto nel tempio, eh? Al culto messianico. Poi possiamo dire anche che c'è un messianismo un poco più eh che si sviluppa eh diciamo sotto dominazione romana che era un messianismo di tipo politico, il Messia ci verrà a togliere i romani dalle scatole sostanzialmente. Tanto è vero che poco dopo la morte di Gesù ci fu un certo Bar Kokba eh che significa il figlio della stella che guidò gli ebrei in una rivolta e poi diciamo l'imperatore Ariano si arrabbiò e fece appunto prima diciamo diciamo tramite il generale Tito quindi è precedente a Bar Kokba fu distrutto il tempio. Poi nel centododici, centoquindici, fece su questa rivolta e Adriano stabilì che Gerusalemme non dove essere più abitata dagli ebrei, stabilì una zona di lontananza e creò la Palestina, no? La provincia della Palestina. Quindi vedete nell'ebraismo quest'idea che poi sarebbe venuto qualcuno a realizzare il regno di Dio, a riportarci in auge la Torah, a riportarci il regno, a toglierci i romani, è sempre stato presente e tanto è stato presente ma anche temuta perché quando Gesù fu messo in cruce, cioè in fondo se ci pensate fu messo intropilato, non voleva una ribellione, temeva una ribellione perché diceva questi pensano che sia il Messia e quindi di sicuro faranno una ribellione. Gesù non è stato nel primo e l'ultimo. Dicevo questo Barcoche, ma poi anche negli anni, e adesso parliamo di diciamo rinascimenti inoltrato, credo mille e sei forse, un certo Sabbatai Ledi a un certo punto dice che prendiamo tutti ebrei e torniamocene in Palestina. E questa cosa, se voi leggeste un testo molto bello di Gershon Sholem sul messianismo, sull'idea messianica nell'ebraismo, lui lo dice molto bene, il messianismo è una tensione verso un compimento che il popolo ebraico ha sempre avuto, ma nello stesso tempo anche temuto. In questo senso adesso andiamo molto lontano dal messianismo, però come dice Oscar Wilde c'è una sola cosa peggiore di non realizzare i propri desideri, realizzarli. Quindi è l'attesa di un compimento, però poi quando si compie, che cosa è avvenuto, che cosa avviene? Allora il messianismo è un'anima di tensione che ha attraversato tutta la storia del popolo ebraico e io direi, come anche ho detto, direi che una categoria ermeneutica della storia, con categoria ermeneutica della storia, intendo dire la storia ha una direzione, deve venire qualcuno a portarla a compimento, deve eh che ne so fin terminarla questa storia oppure deve ehm instaurare un regno concreto che sia uno stato politico? Quindi adesso mettete un po' tutte queste informazioni da parte, no? Perché mh vi dicevo ci torneranno utili quando vi dirò come Levinas si interpreta del messianismo e come lo collega con il sionismo. Invece il sionismo, proprio come parola sionismo, vi dicevo, si collega al messianismo perché il Messia avrebbe riportato il popolo di Dio a Sion quando, diciamo vi ho detto, nel durante il primo esilio, quindi con la diaspora del primo esilio, con la diaspora del secondo esilio, quella del tempio, quando Israele è stato, come dicono loro, disperso tra le genti. Quindi questo ritorno a Sion, questo ritorno alle origini è stato legato, no? A questo desiderio di compimento, a questo desiderio di ritorno eh in auge della propria religione, della sovranità sulla propria terra, però in realtà il termine sionismo nasce solo in epoca moderna. Voi immagino che forse avrete sentito nominare, si dice eh il sionismo è nato con Teodor Herzl, in realtà con Teodor Herzl è nato solo il sionismo politico, perché e adesso siamo a quello che vi dicevo prima, esistono più tipi di sionismo. Quindi Sion, l'aspirazione a Sion, ma questa aspirazione deve essere spirituale, deve essere concreta, deve essere che dobbiamo salvare uno stato, oppure dobbiamo solo andarci a pregare. Quindi esistono tante interpretazioni di sionismo. In realtà il sionismo nasce, vi dicevo, con soprattutto la nascita di alcuni fattori. Il primo è quello che vi ho detto, l'aspirazione messianica. Poi l'incontro del pensiero ebraico con la modernità e soprattutto il contatto con i nazionalismi europei. Vi sembrerà strano, ma i sionisti, i primi sionisti, soprattutto quelli anche quelli politici come Nordau, ad esempio, hanno preso ispirazione dal risorgimento italiano. Hanno preso ispirazione dai movimenti nazionalisti di fine ottocento, ok? Ma c'è stato un po', e poi diciamo terza cosa, un po' i pogrom russi di fine ottocento, quindi siamo 1881, no? Cominciano un po' i primi pogrom. Vedete, questa miscela portò al riemergere di questa tensione verso il sionismo. C'erano però stati dei precursori, dei precursori già nel Settecento, che vengono chiamati in ebraico, diciamo, un po' si accostano, devo dire, non che sono loro questi pensatori, maschilim. Maschilim significa illuministi, è il modo di dire illuministi nel periodo ebraico. Queste persone a un certo punto hanno cominciato a riflettere, ma la redenzione umana avverrà in modo naturale o in modo soprannaturale. L'uomo deve lavorare per ottenere questa redenzione oppure deve venire direttamente da Dio, eh? Questi due furono Alcalai e Kalischer. Però già prima di Teodor Herzl c'era stato un sionismo che possiamo definire invece pratico. Quindi a partire da quest'idea un po' religiosa, ma l'uomo deve collaborare con Dio nel redimere la terra, il sionismo pratico dice, ok, noi dobbiamo in qualche modo la salvezza che Dio ci porterà la dobbiamo preparare, oppure la dobbiamo in qualche modo causare. Causare come? Con il lavoro. Dobbiamo prendere la terra, la terra la promessa, ci dobbiamo tornare, la dobbiamo coltivare. Poi quando vi parlerò di un altro tipo di sionismo addirittura il lavoro assume proprio un connotato religioso. Quindi nel caso del sionismo pratico l'idea era noi dobbiamo andare in Palestina, comprare pezzi di terra dall'impero ottomano e andarli a coltivare. E l'impero ottomano gli concedeva questi pezzi di terra, come dire, con molta benevolenza. O li vendeva, oppure li concedeva per farli coltivare. Quindi i primi sionisti di fatto, i primi sionisti pratici, hanno comprato di pezzi di terra in Palestina, che parteneva all'impero ottomano, e hanno cominciato a coltivarli. Costoro erano anche subvenzionati da altri ebrei, che in realtà in Palestina poi semmai non ci sono andati a vivere, ma che avevano a cuore la causa e subvenzionavano con dei soldi. Uno di questi era il barone Edmund de Rothschild, che poi fu chiamato uno dei grandi benefattori, benefattori dell'issub, dell'insediamento. E così cominciarono alla fine dell'ottocento quelle che vengono chiamate haliot al plurale e halia al singolare, che significa le salite. E' come quando voi dite appunto quello è salito al Quirinale, no? Le salite perché Sion era un colle, quindi queste ondate, diciamo così, di ebrei che partivano e andavano in Palestina. E questo è sionismo pratico. Invece quello di Herzl si chiama sionismo politico. Herzl era un giornalista, immagino che lo sappiate, e se vi ricordate bene, quando ci fu l'affaire Dreyfus, lui era in Francia, vive quello che accade. In realtà però non è stato l'affaire Dreyfus a ispirare a Herzl il suo testo, ma lui era stato già molto colpito dall'antisemitismo austriaco, lui era austriaco, soprattutto il sindaco di Vienna. Poi quando andò a Parigi e vide la destituzione, vide Dreyfus, vide quella cosa come una... Cioè si rese conto che, vabbè, ma i francesi, egalité, fraternité, ma non mi pare proprio, insomma, che facciano questa cosa. Tra l'altro, giusto detto e inciso, l'altro giorno ho parlato con un collega che insegna in Francia e mi ha spiegato un pochettino il sistema di scuola francese, per cui poi ragazzi, non è come noi che dicono, vengo al Mamiani, vengo a un'altra scuola. No, tu dove sei nato là devi andare a scuola e poi le università devi accedere poi all'università solo che accede a quel tipo di scuole. Poi tutti fanno un biennio comune. Se sei molto bravo ti dicono, vai al classico, però invece loro vanno al tecnico, perché ovviamente la tecnica oramai regna, e poi invece quelli più così vanno a fare le culture umanistiche. Però questo tipo di sistema, se tu sei nato nelle bandie parigine, non esci più. Intendo dire, quella è la scuola, le università sanno che vieni da quella scuola e quindi da quel quartiere, e non ti prendono. Quindi hai voglia di parlare di egalité, non c'è stato proprio di egalité, quindi nonostante tutto posso parlare così in francese, tanto sono qua, mi perdonirete, insomma. Quindi a un certo punto Teodoro Else disse, è vero che questo ideale, questa ideale della ragione che porta questa grande fratellanza, non ci sembra proprio, l'antisemitismo rimane strisciante anche nel popolo che si dice portatore di più grandi, insomma, ideali di fratellanza. E quindi scrisse, due anni dopo, siamo mi sembra nel 1886, mi sembra il Deriudestat, lo stato ebraico. Che cosa dice questo piccolo testo? Dice, noi dobbiamo creare uno stato, certamente in Palestina. Il motto, ecco, per dire di Erzel era, noi vogliamo una carta, noi vogliamo una legittimazione da parte degli stati moderni, questi stati moderni, che vi ripeto, sono stati colonialisti, hanno avuto tutti il nazionalismo di fino ottocento, che probabilmente lo potete insegnare più voi a me che io a voi, quindi vogliamo una, come dire, convalida da parte di questi stati della nostra aspirazione, no? Ad avere anche noi una nostra terra. E solo lì potremo poi realizzare probabilmente la nostra anima ebraica su un suolo che è assolutamente nostro, nel quale non saremo sottoposti alla legislazione altrui. E quindi lui si c'è molto da fare per creare legami soprattutto politici, soprattutto diciamo con il governo inglese, ma poi anche in Italia, insomma. Quindi per avere questa legislazione politica. Questo quindi, quando voi pensate a Teodor Herzl, lui è fondatore del sionismo politico. Poi c'è anche un attrosionismo che si chiama culturale, che è contemporaneo, a Herzl, e diciamo il suo fautore si chiama Akadaham, che è un soprannome in realtà e significa uno del popolo. Sionismo, sì, culturale. Akadaham, che dice, no, ma a noi non deve interessare il fatto che andiamo oppure non andiamo in Palestina, più che una sovranità come stato moderno, Gerusalemme deve essere più un faro spirituale, un posto che sia, come dire, un faro per gli ebrei che vivono dispersi nel mondo. Non c'è bisogno di tornarci necessariamente, dobbiamo soprattutto tornare all'ebraismo, più che tornare in Israele. Dobbiamo tornare all'ebraismo riconnettendoci con le matrici culturali dell'ebraismo e soprattutto cioè la Bibbia. Di questo sionismo culturale, ad esempio, faceva parte anche Buber, che non so se qualcuno di voi ha sentito, no? Quindi, che pure poi alla fine, insomma, ci andò in Palestina, ma lui aveva soprattutto a cuore il ritorno all'ebraismo. E tanto è vero loro, poi soprattutto Akadaham, come dire, in quelli che poi furono i congressi sionisti, critico molto Erzel, dicendo, ma tu tornare in Palestina, però poi in te non mi pare che ci sia una base ebraica, il tuo è un pensiero laico e il nostro poi sarebbe uno stato come gli altri. Poi c'è stato anche un sionismo socialista. Vi sembrerà strano, ma gran parte di queste persone che andarono nelle prime aliot, scusatemi, al plurale, venivano anche dalla, da quella che poi diventò l'Unione Sovietica, e avevano una mentalità assolutamente socialista. Come la si unisce all'idea di messianismo che vi dicevo prima? L'uomo con il lavoro redime la terra. Quindi non è che se ne appropria, ma proprio la redime, lavorandola la redime. Tanto è vero che uno dei fondatori del socialismo che si chiamava Ben Gordon parla proprio del lavoro come una categoria spirituale, quasi, no? Quindi con la quale ti riappropi della terra, ma anche proprio la redimi e quindi l'uomo stesso in qualche modo permette l'avvento del Messia perché sta lavorando la terra e la sta con il suo lavoro redimendo. Tanto, ragazzi, se voi ci pensate, perdonate ragazzi, è una vizio di... Se voi pensate anche a Marx, no? Cioè in fondo Marx era ebreo. Il pensiero di Marx è non aspettiamo un Messia altro, ma noi attuiamo un'azione che instauri un regno, che non è più un regno divino, però è un regno, in qualche modo intendo dire una dimensione nuova dello spirito, della fratellanza o quel che sia. Quindi le modalità sono diverse, però vedete la categoria ermeneutica, storica intendo dire, è la medesima, la medesima matrice. Questo vi permette di capire una cosa, che anche nel sionismo ci sono diverse correnti. Alcuni ad esempio i cosiddetti sionisti e i visionisti dicono no, ma noi dobbiamo, che erano degli anni venti, trenta, insomma, se mi permettete il termine fascisti, intendo dire che avevano l'idea di anche creare un corpo di polizia che potesse poi fattivamente instaurare un ordine di dominio in Palestina. Mentre invece, ad esempio, Herzl aveva pensato soltanto a creare una banca, creare un'organizzazione sionista mondiale. Quindi vedete, poi esiste un altro sionismo che viene detto sintetico, di cui tra l'altro uno dei più grandi è proprio Haim Weizmann, che poi diventò il primo presidente di Israele nel 1948. E il sionismo sintetico cerca di unire contemporaneamente sia quello politico che quello pratico. Cioè sì, creiamo una banca, creiamo, diciamo, un'organizzazione, andiamo anche però a lavorare, però ricordiamoci delle nostre basi teoriche, piuttosto che bibliche e quant'altro. Esistono addirittura dei post-sionisti, cioè appunto persone che semmai da Israele vogliono anche riandarsene, insomma andare via di nuovo, e quindi dicono no, ma noi Israele non lo dobbiamo possedere. E voi mi direte, ma perché? In realtà sempre a motivo del messianismo, perché una delle cose all'interno delle correnti del messianismo dice questo. E su questa cosa tra l'altro c'è scritto un libro molto bello, un certo Abiezze e Rabizi, e questo testo si chiama La fine svelata in italiano. La fine svelata è lo stato dei giudei, così. Perché tra l'altro, visto che i nomi sono cose e sono politica, dire Erez Israele ha un significato. Dire Medinat Israele ha un altro significato, cioè dire terra di Israele, dire stato di Israele ha un valore totalmente differente. In questo caso lui dice, nel titolo, perché lui l'ha scritto in ebraico, il testo, dice Lo stato dei giudei, degli ebrei. E lui sta proprio dicendo questo. Questo stato moderno, come voi l'avete creato, non c'ha nulla a che vedere con il messianismo. Perché in realtà il messianismo, in una delle sue correnti, dice che il Messia dovrà instaurare il regno, non gli uomini, con le azioni, con le loro azioni politiche. Invece c'è un ultimo motivo di sionismo, che è quello religioso o messianico, che dice, no, il fatto che noi abbiamo in qualche modo ripreso il controllo della terra di Israele è proprio segno che il Messia è venuto. Poi chi è? Adesso ne discutiamo. il Messia è venuto, cioè si sono instaurati i suoi tempi. Ad esempio, questo tipo di sionismo ha avuto molto da dire con la guerra dei sei giorni, o meglio dopo la guerra dei sei giorni. Facciamo un po' di storia. Sono troppo didattico. Benissimo. Israele nel 67, a un certo punto il presidente egiziano di allora che, come si dice dalle parti mie, avrete capito più o meno di dove sono, voleva un po' sfrugliarli. Vabbè, avevano chiuso lo stretto di Tiran, avevano, diciamo, messo dei carri armati sulla penisola del Sinai. In più la Siria aveva fatto la stessa cosa. Quindi Israele si vide un po' schiacciato, sia a nord che a sud. Che facciamo? Che non facciamo? Che facciamo? Che non facciamo? Governo di unità nazionale, crisi, bla bla bla. E a un certo punto dissero attacchiamo noi per primi. E quindi accadde quella che voi conoscete essere la guerra dei sei giorni. In quell'occasione che cosa accadde? Le Nazioni Unite, con la risoluzione 181 del 1947, avevano stabilito che alla fine del mandato britannico, perché, diciamocela tutta, i vincitori della prima guerra mondiale e Medio Oriente se lo sono spartuti. Ok? Quindi la zona di influenza russa che è la Siria, la zona di influenza francese, la zona di influenza inglese e poi la Palestina per un futuro, diciamo, stato ebraico. Però per ora teniamola in mano al mandato britannico. A un certo punto però gli ebrei continuavano a fare queste haliot, gli inglesi tergiversavano e quindi poi ci furono anche scontri dal 29 in poi soprattutto, ci furono degli scontri con la popolazione palestinese, attentati terroristici dall'una e dall'altra parte. A un certo punto gli inglesi dissero noi sta cosa non la possiamo più gestire? Lasciamola alle Nazioni Unite. E le Nazioni Unite nel 1947 fecero una risoluzione, tenetela a mente, la risoluzione 181 nella quale si disse quando l'anno prossimo gli inglesi lasceranno la Palestina formeremo due stati, uno ebraico, uno palestinese. Era diviso un po' proprio a quattro in modo da dare una parte di mare a tutte e due e una parte di entroterra ad entrambi. Questo accordo, questa cosa dell'ONU, questa risoluzione, fu accettata dagli ebrei ma non dagli arabi e soprattutto non tanto dai palestinesi ma dagli altri stati arabi. E quando il mandato britannico terminò, quello che fece Caim Weizmann nel credo fosse 16 maggio, 14 maggio, la nascita dello stato ebraico fu una dichiarazione di indipendenza. Quella dichiarazione in attuazione della risoluzione 181. Non fu una guerra. Però poi gli altri stati arabi, Siria, Ira, Libano, Egitto, scesero in guerra contro questo novello stato perché non volevano né uno stato ebraico né uno stato palestinese. Volevano un po' accaparrarsi quella terra. Che questo sia, secondo me, vero. Quello che vi dico è influenzato molto da un testo di storia dello stato ebraico che è di Vercelli. Io faccio sempre così per correttezza perché può darsi che se leggete un altro testo la storia è raccontata in un modo diverso. Quindi io non è che sono il padre eterno, vi interpreto la storia, no? Quindi non dico verità. E quindi in quell'occasione poi ci fu una guerra, la guerra di indipendenza, che finì con un armistizio e Israele prese i territori che gli erano stati dati dalle Nazioni Unite. Ma lo stato palestinese non fu mai dichiarato perché i palestinesi non lo fecero. Nel 1967, data questa pressione, gli ebrei dissero attacchiamoli noi all'Egitto e alla Siria e quello che succeda, succeda. E per loro, o per alcuni di loro, accade il miracolo. Israele in sei giorni triplicò il proprio territorio, i cosiddetti territori occupati di Gaza e della Cisgiordania. Quindi quando voi sentite Gaza e Cisgiordania, sono i territori occupati nel 67, occupati in attacco preventivo alla situazione che era una guerra d'attrito, la potremmo chiamare, o una strategia provocatoria dell'Egitto e della Siria. A un certo punto Israele in realtà aveva fatto anche appello all'ONU diverse volte alla fine di maggio. L'ONU per tutta risposta aveva ritirato i suoi osservatori, quindi non aveva fatto risposto. Quando poi gli stati arabi fecero tutta una serie di proteste, l'ONU disse, tornate tutto come era prima. Giorni dopo ovviamente, ma alcuni ebrevissero, no, il fatto che abbiamo vinto questa guerra contro ogni speranza è proprio sintomo, segno, che sono venuti i tempi messianici e quindi noi dobbiamo ristabilire l'antico Israele, l'antico Israele del Regno di Davide, che quindi comprende anche i territori di Gaza e della Città Ordania, dove ci sono le tombe dei patriarchi. E i fautori di questo messianismo, i fautori di questo sionismo si chiamano sionismi messianici, che per dirvi un po' più o meno chi sono, sono quelli che poi hanno fatto armi e bagagli e sono andati a colonizzare quei territori, no? I cosiddetti coloni di Ebron, di Gaza, soprattutto ad Ebron. La cosa è molto dura. Anni fa, parlo di una, forse, mi ricordo se 2010, forse 2010, la RAI ha trasmesso un documentario molto bello che si chiama This is my land Ebron. Molto, molto bello. Trovatelo se lo trovate su, non lo so, su te che RAI, che fa vedere effettivamente cosa questi coloni fanno e quello effettivamente è inumano, è un apartheid. Quindi quando io dico, io Giuseppe Stinca, adesso parliamo di sionismo, state certi che non vogliamo legittimare quello che i coloni ebrei fanno ad Ebron? Oppure non vogliamo dire non deve esistere uno stato palestinese? Si dice, si dicono altre cose, quindi dobbiamo cercare di capire questo, no? Quindi infatto mi avete permesso una introduzione, forse in troppo lunga. Però io per il meno ho detto cosa sono il sionismo e cosa è il messianismo. Adesso dobbiamo voi dire come li colleghiamo a Levinas? Come Levinas li collega? Allora io ho fatto questa cosa, questa ricerca, anni fa, che la mia vita è molto rocambolesca, in una delle mie tesi, perché dice mio padre che io quando non entro da fare scrivo una tesi o scrivo un libro, avevo studiato, avevo trattato un tema a mio parere molto bello perché nella mia vita è stato molto pregnante, quello del silenzio di Dio. C'è un testo molto bello di Andrine Herr, l'esilio della parola, che tratta del silenzio di Dio, dalla creazione ad Auschwitz, e lo collegai alle categorie che Levinas utilizza per parlare della trascendenza di Dio. E quindi la tesi si chiamava Trascendenza e silenzio di Dio. Una sintesi di questa tesi la potete trovare anche in Dialegge Stein, potete trovare un articoletto che si chiama così Trascendenza e silenzio di Dio. E lì quindi vedi questa cosa del silenzio. Poi diciamo a un certo punto trovai in Levinas il tema del male e quindi dissi ma questo tema del male in Levinas che che significato ha? Insomma c'è un significato molto eh ho ho studiato questo tema del male in tutte le sue opere, dalle prime opere fino alle ultime. A un certo punto ho trovato un collegamento tra male e messianismo e questa cosa è diventata una tesi, è diventato anche un articolo, due articoli su Dialegge Stein sempre, nonché un libro che mi avete pubblicato voi con il nostro grande Emilio ovviamente eh che si chiama male messianismo in Emanuele Levinas e là a un certo punto io dico ma Levinas che cos'è il messianismo e che cosa c'entra col male? Allora prima vi ho detto tutta l'idea dell'etica di Levinas a un certo punto c'è un punto in cui Levinas dice ogni io è messia ed essere io significa essere messia. Allora se voi lo ricollegate a quello che vi ho detto prima il fatto che io sono io sono un soggetto solo perché gli altri mi interpellano no perché io guardo i fogli guardo il microfono allora io nel momento in cui accetto la responsabilità verso gli altri porto sulle mie spalle il peso dell'universo dice Levinas in questo senso sono un messia io devo salvarlo il mondo ma non perché sono non lo so un grand'uomo no ma perché quel peso è stato dato a te e non ad altri perché nessuno può rispondere al posto tuo se io adesso guardo te da te richiedo l'attenzione non dalla persona che sta dietro di te se voi vi ricordate io e miei alunni cito sempre film perché devo sempre cogliere la loro attenzione come in realtà sto cercando di fare adesso la pressione mi sta pure andando alle stelle quindi però la vostra attenzione sembra di averla quindi perché io tengo sempre da annoiare il mio pubblico insomma eh pubblico intendo dire il mio auditorio sono abituati a ti quindi benissimo ehm vi dicevo se voi avete visto Matrix soprattutto Matrix Reloaded quando Neo si incontra con l'oracolo l'oracolo gli dice sei tu che devi salvare Zion e devi fare questo questo e questo e lui dice se non lo faccio e lui dice perché lo devo fare perché sei l'eletto e dice Lerinas ogni io è eletto eletto significa scelto quindi se io in questo momento guardo ti voglio l'attenzione tua e non di altri quindi io ti sto è leggendo nel momento stesso in cui tu sei sei deposta dall'autorità del tuo ego io in realtà ti sto costituendo come soggetto e leggendoti e solo tu puoi darmi l'attenzione che io ti chiedo in questo senso tu sei per me messia sei quell'altro per eccellenza atteso quindi io trovai questo che potrei chiamare un messianismo soggettivo di Lerinas no diamogli un nome nuovo no un sommigianismo un messianismo soggettivo un messianismo etico il messia è colui che è disposto a mettersi sulle spalle il peso del mondo intero è proprio piccolo ovviamente perché ragazzi il mondo intero come dico ai miei alunni quando come cambia il clima eh se non fumate se non buttate la cicca per terra eh non è che dobbiamo aspettare che venga qualcuno a pulirci le strade che venga qualcuno che che eleggiamo un nuovo politico che venga noi dobbiamo essere in messia tanto è vero che Lerinas poi quando interpreta le categorie messianiche rivede una cosa che adesso so per dirvi quindi è chiaro il punto di unione messianismo etica di Lerinas e quindi poi per concludere quello che dicevo sulla tesi poi in fondo il male il fatto che io possa sopportare il male degli altri il male che mi fanno gli altri il male che mi fa la resistenza stessa dell'essere e avere timore o meglio soffrire per la sofferenza degli altri Lerinas chiama questa cosa sofferenza inutile perché poi io dico sempre i miei alunni noi pensiamo sempre la sofferenza in un modo che li hanno eh nel senso di eh poi questa cosa un giorno ti servirà ma non è vero io cioè intendo dire se io pensassi alle mie di sofferenze cioè il fatto che ce ne ho tante hanno avute tante non lo sì ho sofferto quindi mi ha reso più sensibile oppure gli ebrei ne hanno mandati nelle camera gas ma qual è il vantaggio che noi oggi facciamo il giorno della memoria a scuola ma andatelo a dire agli ebrei che sono morti là dentro probabilmente loro ti diranno dieci abbandonati quindi purtroppo la sofferenza il male crea una frattura che non conosce sintesi hegeliana ci sta poco da fare il male come dice un grande pensatore col quale lei veniva pure si è confrontato si chiama Philippe Nemo Giobbe l'eccesso del male prendete nota sono tutti testi molto belli Giobbe è un testo meraviglioso nella Bibbia perché nel libro di Giobbe si mette in dubbio che Dio sia buono però quello che succede alla fine è che Giobbe è buono Giobbe nonostante il male ha scelto il bene voi vi ricordate Kant che dice bisogna volere il bene per il bene non perché ci fa comodo altrimenti non è un imperativo categorico è un porco comodo nostro in Giobbe però poi ricordate Kant però dice ma nel regno dei fini dobbiamo poi pensare che ci sia un Dio che ci certifichi che dice bravo questo era veramente il bene mo accedi al regno di Dio che sia invece già in Giobbe già nella Bibbia e le binas Dio non ti ripaga un bel niente per il bene che fai però nel momento in cui tu fai il bene per il bene diventi proprio simile a Dio e così lo conosci veramente dice Giobbe io prima ti conoscevo per sentito dire invece i miei occhi adesso ti hanno visto ti conosco ti ho visto in faccia ma in fondo Dio a Giobbe non gli ha detto un bel niente gli ha detto chi è dov'eri tu quando io creavo il mondo insomma l'ha messo un po' a posto non è che gli ha detto no ti spiego perché soffri no gli ha apparso con tutta la sua irruenza in fondo no bene tornando a noi quindi dicevo le binas messianismo etico messianismo soggettivo e allora poi nella mia tesi ho detto va bene ma quindi poi le binas che cosa intende per messianismo e che le binas in fondo analizza il messianismo ebraico in diverse sue lezioni che poi sono state pubblicate eh che lui teneva ehm con degli intellettuali ebrei di lingua francese in degli incontri che si chiamavano così colloque des intellettuali juifs de langue francese che si tennero dal cinquantasette più o meno al duemila e qualcosa in questi incontri un po' l'intelligenza ebraica cercava di unire un po' le esigenze della modernità eh il ritorno a questa identità ebraica eh e con con le vicende insomma poi anche eh contingenti insomma della nascita dello stato ebraico quindi che contributo possiamo dare noi ebrei no pur rimanendo in Francia e le binas partecipava a questi incontri fu uno degli organizzatori di questi incontri e lì tenne delle cose che si chiamano lezioni talmudiche voi sapete cos'è il talmud no quindi oggi vi dico tante cose nuove il talmud è un insieme di libri eh ebraici ovviamente che sono nati in epoca cristiana eh il più famoso è il talmud babilonese più o meno da secondo secolo dopo Cristo fino a sesto secolo insomma ed è una cosa molto bella della tradizione talmud è una parola che viene che significa lezione in ebraico il verbo insegnare e il verbo imparare hanno la stessa radice l'md però nella forma semplice significa imparare nella forma intensiva insegnare ed è bellissima questa cosa insegnare è un modo intensivo di imparare la mad e l'imed sono le forme insomma perché gli ebrei non hanno le vocali l'ebraico non ha vocali hanno solo consonanti quindi in base alla radice e quindi il talmud che cos'è talmud viene quindi da questa l'md da questa parola l'md sono dei commenti che diversi rabbini facevano su passi della Bibbia su regole della Torah quindi sono delle lezioni queste lezioni però hanno una loro stratificazione come una millefoglie va diciamo così allora eh rabbì Salmeri ha detto questo però rabbì Stink ha aggiunto questo però rabbì quest'altro ha detto quest'altro quindi tante opinioni differenti che creano una tradizione eh una halakà una tradizione una tradizione nella quale sti rabbini si scornavano pure tra di loro nel senso che io dico così io lo dico così però alla fine come dice poi un verso del talmud sia gli uni che gli altri hanno pronunciato le parole del dio vivente il talmud è proprio l'esempio più classico del pluralismo nella tradizione che come direbbe Derrida è anche tradimento avete sentito nominare Derrida eh che chi lo capisce bravo come il professore Salmeri può testimoniare come una volta dicemmo e tra l'altro mi sono dovuto confrontare pure con il pensiero di Derrida eh in questa mia ricerca e quindi Levi Nasti in queste lezioni talmudiche a un certo punto dice ma cos'è il messianismo ebraico e quindi dicendo cos'è il messianismo ebraico dice anche quello che lui pensa del messianismo e dice anche quello che lui pensa del sionismo allora innanzitutto dice eh Levi Nass e quindi questo è anche contenuto del messianismo nel messianismo bisogna distinguere tra una epoca messianica e un mondo avvenire l'epoca messianica è la realizzazione delle promesse dei profeti che poi possono avere un valore sociale un valore politico un valore etico invece il mondo avvenire è una dimensione di di trascendenza ulteriore alla storia cioè la storia ha una fine e comincia un altro regno che è metastorico quindi una visione è intrastorica una visione è metastorica in una delle due visioni le azioni umane possono avere un valore perché se il regno di Dio si realizza nella storia allora le azioni umane hanno un valore per la venuta del regno di Dio la possono anticipare ritardare condizionare possono essere le azioni stesse indice della venuta del regno di Dio vedete ricollegatelo a quello che vi dicevo prima oppure una visione assolutamente metastorica cioè nella quale il regno di Dio lo fa Dio noi non dobbiamo fare niente ci mettiamo e ci grattiamo la pancia aspettiamo che Dio lo faccia e vi ho detto che prima vi ho detto Gershom Sholem no il quale Sholem dice in fondo gli ebrei ogni volta che hanno avuto un po' la fretta di anticipare il regno di Dio se la sono vista male perché poi si sono state le repressioni dei romani eh quelle contro Zabbata e Levi quindi lui dice questo compimento di Dio ogni tanto che ci illudiamo che sia lì lì per venire che ci fomentiamo diciamo così dobbiamo stare attenti e a Vietzer Rabizki in questo testo che vi ho citato prima alla fine svelata è un testo contro il sionismo che lui dice i miei confratelli sionisti nell'andarsi a prendere la terra hanno voluto fare il lavoro di Dio invece noi dovevamo aspettarlo l'intervento di Dio un intervento soprannaturale non dovevamo creare uno stato come gli altri uno stato come l'Italia la Germania che hanno tutti i loro problemi nonostante tutto e lui ricorda in questo testo i cosiddetti tre giuramenti talmudici quindi che stanno nella tradizione del Talmud in cui dice Israele dice noi abbiamo giurato uno di non eh sottrarci al gioco delle nazioni due di non affrettare la fine tre di non arrampicarci sul muro che non è il muretto di quando ma il muro del tempio quindi Israele tra virgolette deve ecco vivere in una condizione esilica ecco diciamo così non deve ribellarsi all'esilio eh detto in chiave cristiana no San Paolo nella lettera romana dice non c'è autorità che non venga da Dio quindi se voi state in esilio dovete obbedire ai paesi nei posti in cui state in esilio vedete che sono anime totalmente differenti tant'è vero che Sholem dice però a furia di pensare così in fondo l'ebraismo l'idea messianica nell'ebraismo è l'idea di una perenne procrastinazione viviamo nell'attesa viviamo nell'attesa viviamo nell'attesa di un compimento che non c'è bene tornando a noi vi dicevo il fatto delle azioni dell'uomo levinasso un po' questa cosa la sposa perché se riprendete quello che vi ho detto prima se io sono responsabile di voi adesso semplicemente nel darvi la mia attenzione oppure voi di me non c'è bisogno che facciamo la rivoluzione abbiamo già salvato il mondo vi ricordate il film quello di quella del cappottino rosso la lista di Schindler sull'anello che regalarono a Schindler c'era un verso di Thamud che dice chi ha salvato una vita ha salvato il mondo intero quindi quando vi dico ma facciamo un po' i moralisti come potete salvare il mondo in questo momento ascoltandomi perché dice San Paolo noi verremo giudicati su una sola cosa sull'amore ma ci stanno siamo in tanti modi non è che dobbiamo andare a farci martirizzare necessariamente in Iran dovete dire a vostra madre che buona la pasta e fagioli oppure ringraziare il professore che ha messo la telecamera cioè il mondo così si salva poi sembrerà strano ma è così che si salva il mondo ognuno facendo il suo piccolo il suo poco e quindi essendo messia perché appunto si può amare mangiando la pasta e fagioli si può amare ascoltando il telegiornale si può amare andando da parrucchiere perché semmai sei più bello sei più bella Levinas quando parla di etica non è che poi l'etica diventa una sorta di soggezione totale quando si dice amo il tuo prossimo perché è come te e diciamo mi dice anche un po' di si recupera anche un po' di amor proprio perché io per amore del mio prossimo posso creare ad esempio uno stato perché c'è il mio prossimo che è lui c'è il mio prossimo che sei tu allora tra le esigenze del mio prossimo quale devo mettere per prima l'avvento del terzo come dicevamo prima il professore mi ha mandato un messaggio prima che rompa un terzo che Levinas chi di voi conosce un po' il pensiero di Levinas dice le mie i miei imperativi etici nei confronti dell'altro io non ho solo te allora se nel mondo ci fosse solo tu tu allora io sono assolutamente responsabile di te ma c'è anche lei anche lei anche lei anche lei allora io poi posso creare una giustizia che non è più una legge esterna ma nasce dall'etica io posso fare delle comparazioni dei pensieri vedete quindi Levinas dice dall'etica nasce la filosofia dall'etica nasce la giustizia dall'etica può nascere uno stato quindi vedete già capito un pochettino dove voglio andare a parare dove poi Levinas andrà a parare e quindi Levinas dice è il fermento messianico nel tempo è proprio l'azione umana ok però quest'azione umana e le azioni umane sono caratterizzate da egoismo da interessi quindi l'azione umana non è un criterio di per sé assoluto anzi c'è in Levinas una sfiducia nelle azioni puramente politiche che non possono che essere che violente quindi vedete Levinas da una parte dice c'è bisogno che noi agiamo c'è bisogno della politica però infatti poi lui dice a un certo punto parla di puramente politico eh in Levinas la politica deve essere animata da quest'etica che per lui che è un ebreo è sostanzialmente quella della Torah la quale ha un solo insegnamento Amerai il tuo prossimo come te così come te che in ebraico siccome il verbo essere è sottinteso noi lo potremmo tradurre perché è come te non lo amerai come ami te allora siccome ti ami poco ami poco pure il tuo prossimo il primo termine di paragone non sei tu e il tuo lo ami lo amerai perché è come te vedete quindi in ebraico sono molto meglio e quindi vi dicevo questa fiducia sfiducia nelle azioni umane soprattutto eh Levinas parla del valore della sofferenza parla del valore della sofferenza perché o la sofferenza porta alla redenzione quindi la sofferenza mi fa capire che stiamo andando in malura e quindi porta alla conversione umana e poi la conversione umana porta il regno oppure visto che le azioni umane non come dire eh non portano un bel niente in qualche modo la sofferenza è un intervento di Dio che taglia in qualche modo le azioni umane permette l'avvento del regno di Dio perché appunto agisce al di là delle nostre azioni delle nostre intenzioni però letto in chiave Levinasiana il fatto che io soffro per il mio prossimo soffro della sofferenza del mio prossimo questa mia empatia ecco ritorniamo a Husserl è proprio il fermento del messia io il messia lo sto facendo irrompere in questo momento nel tempo faccio una piccola parentesi uscendo fuori da Levinas perché io non so a che anno di filosofia siete non so se siete già laureati sapete che è un certo Benjamin sì avete letto le tesi di filosofia della storia cioè sulla filosofia della storia eh a un certo punto Benjamin a parte l'opera d'arte no se vi ricordate cioè Benjamin ha scritto delle belle tesi di di storia un po' tu lui l'Angelus Novus molto interessanti in cui lui parla della scintilla messianica la scintilla rivoluzionaria no perché lui aveva quest'idea no socialista però lui utilizza le categorie messianiche per dire che poi è il soggetto con la propria azione che può far irrompere nella storia la scintilla messianica la scintilla della rivoluzione che però può essere intesa in chiave politica in chiave etica in chiave soggettiva Levinas ad esempio la intende molto in chiave soggettiva in una delle sue lezioni talmudiche eh in cui lui parla di di ebraismo di giudaismo e di rivoluzione dice ma il vero rivoluzionario non è quello che vuole instaurare un nuovo regno perché tutti i regni umani sono imperfetti vi ricordate cosa dice Popper hai voglia di instaurare uno diciamo facciamo la rivoluzione abbattiamo tutto e ricreiamo tutto da capo ma le cose umane sono sempre imperfette quindi meglio fare il gradualismo no il riformismo gradualista spizzico così lo chiamava lui cambiamo quello che c'è poca volta perché tutte le istituzioni umane saranno sempre caratterizzate da dall'egoismo umano no? Allora invece di illuderci di eh no fare qualcosa di totalmente nuovo cambiamo quello che c'è no? Allora diciamo Levinas dice i liberi rivoluzionari non sono quelli che dicono distruggiamo tutto e facciamo tutto nuovo come se tutto dipendesse orgogliosamente da noi ma è colui che nella propria intimità nella lacerazione della propria coscienza cerca di liberare l'oppresso senza far violenza all'oppressore che è difficile perché l'azione di giustizia è sempre difficile questa cosa si collega a un altro tema che nel messianismo in ebraico intendo dire si chiamano chleve messia ah detto per curiosità messia si indica unto eh unto come si ungevano i rei sacerdoti e profeti che in greco è christos dal verbo krio eh quando uno dice gesù cristo si intende messia non si intende mai un ebreo che dice gesù cristo dice gesù di nazareth tutto al più quindi che sono queste chleve messia queste dolie del messia c'è un verso della bibbia che dice poi nel giorno di dio io ho visto gli uomini portarsi le mani ai fianchi come per partorire quindi un'immagine paradossale no di gergo profetico ma che vuol dire che gli uomini devono partorire allora lei viene scommentando questa cosa dice ma forse sono non so gli angeli di dio che vogliono che dio salvi giusti punisca i peccatori quindi temono che dio non faccia questa azione no oppure dio stesso che vuole intervenire per salvare i giusti però gli dispiace di punire i peccatori quindi dio stesso che soffre nell'atto di praticare la giustizia di punire poi alla fine il maffatore sarà quello che sarà però dio forse il professore ve l'ha nominato ve lo nominerà questo però che so per dirvi è una cosa di contenuto cattolico di contenuto cristiano scusatemi il dio della creazione è un dio che soffre il dio che crea sta soffrendo il teologo in questione che sto citando si chiama jürgen moltmann ma anche gli ebrei hanno un po questa visione dio come essere infinito è in soff dicono loro senza fine per creare il mondo deve limitarsi deve fare un buco in se stesso e là metterci l'essere quindi vi sembrirà strano ma l'essere non è il posto in cui dio c'è ma il posto in cui dio non c'è l'essere è l'orma direbbe levinas che dio passando ha lasciato dio e l'essere non c'hanno nulla a che vedere dice levinas dio altrimenti che essere come altrimenti che essere si chiama un suo libro e non lo possiamo trovare l'assenza di dio questa cosa in ebraico questa contrazione autocontrazione di dio si chiama sim zum io e i miei alunni sempre per intrigarli dico avete visto vita di p che pure un film che riprende la lo schema di job perché il ragazzo che va da solo che fa il naufragio e poi a un certo punto c'è una tempesta quindi gli capita di tutto a un certo punto c'è una tempesta e alla tigre che è un po il suo alter ego dice non temere lui il clemente il misericordioso lui utilizza un paradigma arabo no perché il clemente il misericordioso è un'espressione araba no è una cioè le sure cominciano sempre con questa espressione bismillah rachmami rachim rachmami rachim è il clemente il misericordioso vedete rachm sono proprio le radici della parola viscere in greco splank na quindi rachamim e la misericordia di pancia e quel film riprende job e in quel film chi di voi l'ha visto vita di p non vedete sempre brava quando lui si imbarca sulla nave che poi affonda se lo avete il dvd blu ray ne sono andata a vedere sulla chiglia della nave sta scritto simzum vedete il naufragio dell'essere il naufragio dell'esistenza le esperienze che ne sono gli asper insomma sono il posto in cui incontriamo dio paradossalmente in queste esperienze limite va bene abbiamo finito la parentesi diciamo cristiana no e allora dicevo levinas dicevo dicevo dio esita di fronte a questa violenza giusta e quindi dice levinas che dobbiamo fare come lo dobbiamo inquadrare in qualche modo questo messianismo e dice levinas lo in realtà il israele attende una speranza ulteriore israele attende qualcosa di meglio dall'essere salvato da un messia quindi vedete levinas si collega a una tradizione che è quella del messianismo già realizzato o del messianismo a venire il messianismo è già venuto il messia il messia deve venire ma allora se è già venuto chi era se dovrà venire chi sarà levinas taglia corto perché in fondo come ho detto prima dice ma ognuno di noi è il messia quindi attendere da dio una speranza ulteriore significa sperare dice levinas guardate che bello che dice la liberazione per mezzo di dio coinciderebbe con la sovranità di una moralità vivente aperta su progressi infiniti quello che voi studiando kant avete chiamato regno di fini quindi un regno nel quale io sono buono e sono anche felice perché in realtà qui non accade e non accade ed è normale che sia così perché se il bene mi rendesse felice io farei il bene per essere felice non per essere buono e di nas chiama questa cosa bontà del bene la bontà del bene che mi deve scegliere per primo è il bene che deve scegliere me non io il bene quindi quando dico ai miei alunni pillola rossa pillola blu e poi sono il bene e il male e non lo abbiamo scelto noi cos'è bene e cos'è male inizia direbbe no ma quando mai ho saputo che voi citerete nizia nel corso nizia dice no lo dobbiamo scegliere noi cos'è il bene e cos'è il male oppure come dico ai miei alunni e lo dico pure a voi come dice il professor non mi ricordo come si chiamava raptor a harry potter di fronte allo specchio nella camera no della pietra filosofale non esistono bene e male esiste solo il potere e coloro che sono troppo deboli per ottenerlo e in fondo sta citando nizia nizia ma non è vero sei tu che devi scegliere pillola rossa e pillola blu e invece levinas dice proprio no perché se siamo a noi a scegliere la qual è il bene qual è il male non siamo certi che quello sia il bene è il bene che deve scegliere noi dice levinas è il bene che ci deve eleggere solo questo salva dio dalla morte alla quale lo ha condannato nizia perché nizia se vi ricordate nella trasvalutazione dei valori dice ma cari miei cristiani voi fate una cosa perché ritenete che sia bene quindi voi date valori a qualcosa che ritenete oggettivamente bene invece io dico che voi chiamate bene ciò a cui date valore io dico ai miei alunni siccome mi piace la nutella io dico che la nutella è un bene ma poi ognuno di noi dice qual è il suo e arrivederci e ci troviamo poi in quella che alcuni temono tanto nell'erasivismo etico del mondo post moderno in fondo no invece levinas dice è il bene che deve scegliere noi ma voi mi direte e che ce lo dice qual è il bene quale sistema ce lo dice ce lo dice prossimo qual è il bene cioè io faccio questa cosa per il tuo bene e sì ma in realtà il tuo bene se in qualche modo tu a determinarlo perché se io dico faccio questa cosa per il bene per una sorta di bene come se il bene fosse un'idea no ma in questo modo cioè io per il tuo bene bella mia ma ti devo mettere a rugo perché sei una strega quindi io per il bene della tua anima ti metto a rugo ci pensate dio lo vuole tagliamo le teste oppure gli infedeli fategli questo in nome di un bene che è terzo rispetto a noi invece dice levinas il bene è la relazionalità che abbiamo tra gli esseri umani che è primaria a tutto e questo pluralismo fondamentale no e lui vi dicevo lo collega a questa speranza ulteriore messianica e questa speranza ulteriore noi la possiamo realizzare proprio nel tempo no nel tempo eh con le nostre azioni quindi il tempo non è più un'attesa frustrata di un dio che dovrà venire a salvarci no ma è proprio la realizzazione del regno di dio allora dice levinas tutto questo no in questa in questa mia idea di messia come si come posso struttura come posso associarla al sionismo come posso associarla all'idea di sionismo lui in una di lui dedica proprio dei saggi al sionismo che sono raccolti in un libro molto bello che si chiama i saggi si chiamano sionismi quindi vedete lui utilizza già il termine al plurale sionismi e si trovano in un libro pubblicato a 1982 che si chiama o delà di verse a di là del versetto o meglio in italiano l'aldilà del versetto tutto accato l'aldilà del versetto che levinas poco il francese gioca molto con le parole sono un po' complicato e lui dice secondo me eh l'attesa no messianica il fermento messianico nel popolo ebraico si è perso si sarebbe perso quando quando gli ebrei sono entrati a pieno titolo nella storia con l'emancipazione con l'emancipazione ebraica potremmo dire che ogni tensione messianica del messianismo come ve l'ho dipinto prima la possiamo considerare spenta tutto ciò se non fosse avvenuto quel fatto particolare che è l'instaurazione dello stato ebraico nella quale instaurazione dello stato ebraico noi vogliamo come dire il popolo di israele ha voluto realizzare la propria eh una propria identità una propria eh vocazione di messianismo universale attraverso però un particolarismo etnico quindi l'elezione del popolo ebraico ma eletto in che senso non perché siamo i migliori ma dobbiamo essere i più responsabili e quindi dobbiamo essere faro in qualche modo per gli altri nel prenderci no ehm però questo poi collegandolo con l'instaurazione di uno stato che abbia delle leggi che abbia un'autorità che abbia un esercito con un valore poi anche difensivo laddove sia possibile allora dice quando noi parliamo no del del sionismo dice dobbiamo forse liberare un po' il campo da tutta una serie di tensioni io voglio parlando di sionismo non voglio ehm come dire mettere in causa ciò che causa le guerre oppure la Bibbia la Bibbia o il o il Corano di per sé non sono eh come dire non non sono idee che portano alla guerra è il modo in cui gli uomini utilizzano quelle idee che può portare no alla diciamo alla guerra ma nella restaurazione dello stato di Israele ehm è uno stato come gli altri come lo devo considerare dice Levinas uno stato nazione come gli altri oppure deve esserci qualcosa in più e lui dice secondo me in Israele deve esserci un al di là dello stato eh quindi uno stato che sia animato dai principi eh della Torah che sono quelli di amare il prossimo è quello che vi dicevo io quindi l'essenza dello stato di Israele per Levinas deve essere sostanzialmente la religiosità ma non religiosità in senso di confessionalità eh quindi lui dice qualche anno dopo nel 1951 lui dice ma Israele adesso abbiamo ricreato lo stato di Israele 48 51 lui dice stato moderno stato dominatore ma che limitazione secondo me Israele è tutt'altro che questo eh piccolo stato perché in Levinas e poi in questo testo che ho fatto insomma ho studiato questa cosa cioè per Levinas stato di Israele e Israele non sono proprio la stessa cosa per Israele per Levinas Israele è una categoria etica che si adatta a tutti e lui dice per me Israele sono tutti i deboli tutti i maltrattati che siano ebrei che siano cristiani che siano palestinesi che siano musulmani Israele è una categoria etica ok quindi vedete già Levinas quando scrive nel 51 queste cose lui è contento della creazione dello stato di Israele lui dice secondo me non lo stato di Israele noi dobbiamo realizzare una nuova politica un monoteismo politico dice lui vedete è una parola molto forte perché quando noi pensiamo a monoteismo politico pensiamo alla teocrazia adesso in questi giorni pensiamo all'Iran no e ci fa un po' paura invece per Levinas monoteismo politico non significa tu devi diventare ebreo ma cosa dice il nostro monoteismo ama il tuo prossimo come te stesso noi vogliamo realizzare una legge dello stato che si è impregnata di valori etici questa cosa però per centinaia di anni noi l'abbiamo solo proclamata siamo stati vittime della storia e essere vittime della storia dicendo voi siete cattivi voi siete cattivi e non intervenire mai per cambiarla è anche comodo belli miei no in genere quando uno vuole cambiare le cose e critichi vale a fare tu vai tu al governo diventa tu il lettore dell'università fai tu questa cosa perché essere nel ruolo di vittima come diceva Sholem per l'appunto esime un po' gli ebrei dalla responsabilità nella storia e Levinas dice secondo me il momento in cui abbiamo creato lo stato di Israele abbiamo dovuto mettere le mani in pasta nella storia nella politica e la politica è un luogo sporco non dice la parola sporco ma questa parola la prendo in prestito da Derrida che in un saggio molto bello in un libro molto bello che si chiama Dio a Emmanuel Levinas eh leggetelo è veramente bello eh Derrida si confronta con il sionismo di Levinas e dice mio caro Levinas ma tu hai parlato del valore dell'altro dell'assoluta alterità dell'altro ma come la mettiamo coi palestinesi e dice Derrida una cosa molto bella dice io vi assicuro di una cosa perché Derrida lo conosceva molto bene a Levinas Levinas era un convinto sionista ma il suo sguardo è stato sempre rivolto a coloro che soffrivano a motivo di quello che succedeva in Israele e si riferisce ai palestinesi anche se lui apertamente intendo dire Levinas non è mai entrato troppo nel gioco della politranne in un'intervista molto eh sdrucciolevole eh che lui rilasciò ad un giornale francese a un certo Finkelkraut una rivista nel quale lui commentò un fatto molto drammatico che avvenne nel 1982 eh all'interno della eh guerra civile libanese Israele insomma temendo eh un nuovo governo che appoggiasse Zbollah che sono appunto eh terroristi insomma di origine palestinesse che però hanno sede insomma in Libano e in Siria soprattutto in Libano voleva instaurare insomma un nuovo governo un po' più filo ebraico così e intervenne in quella guerra civile nel 1982 eh e si fece risucchiare in quella guerra civile a un certo punto poiché eh diciamo i maronite insomma beh ci fu una faida interna tra quelli del nuovo governo e quelli del vecchio governo si fecero fuori gli uni gli altri i cristiani fecero fuori dei musulmani in due paesi in due paeselli insomma dove c'erano questi profughi musulmani che si chiamavano Sabra e Shatila e eh fu una ci fu uno scandalo mondiale per questa cosa perché gli ebrei non erano intervenuti a fermare questo regolamento di conti i soldati israeliani si erano fatti fatti loro c'è un grande scandalo e Levinassi intervenne in un'intervista che io ho dovuto trovare mi sono dovuto far mandare da Milano da dal feedback e poi sono dovuto andare a Milano a studiare tutti questi atti perché non ci sono a Roma o meglio ci sono me l'ha detto poi il professor Baccarini ma non sono consultabili quindi sono andato a Milano a consultare tutti gli atti di questi convegni perché poi questi testi di Levinassi sono pubblicati in opere del tipo quattro letture talmudiche nuove letture talmudiche dal sacro al santo nell'ora delle nazioni eh che poi ha commentato pure Emilio li ha tradotti certi tra noi però io cosa ho voluto fare sono andato a Milano ho preso tutti gli atti dei convegni in comodo francese e ho visto quel giorno Levinassi ha detto questo ma prima di lui gli altri interventi che dicevano qual era il tema della giornata che domande gli hanno fatto a lui perché quello nei libri non sta scritto ma negli atti del convegno sì che domande ha fatto lui agli altri questo per capire quanto il pensiero di Levinassi si inserisse all'interno di una certa ortodossia ebraica eh molto interessante almeno per me è stato molto interessante questo lavoro quindi ti vede Levinass dice noi ci siamo dovuti cioè ci siamo messi un po' in gioco in questo ambito in questa politica che appunto Derrida gli dice sì un'etica che supera il momento supera uno stallo perché se io parlo di un'etica assoluta è impraticabile per essere praticabile io devo creare una giustizia però lì arrivo ai nei confini del mondo politico che è sempre impuro sono dei confini impuri ma Derrida lo dice in un senso come dire non dispregiativo e quindi anche nella politica nell'azione politica di Israele dice Levinass noi anche negli errori che ha fatto la politica israeliana noi stiamo cercando di eh fare quella che lui chiama un'invenzione politica cioè di come dire eh realizzare eh realizzare nei fatti eh con con un'azione con gli errori pure quella che è quello che è l'ideale profetico che ha sempre animato ehm l'ebraismo ok quindi è questo mettersi in gioco questo realizzare quindi però vi dico non uno stato teocratico ma una ehm monoteismo politico vedete quindi quando i confini poi tra etica e politica si fanno labili no però per Levinass ricordatevi la derivazione è sempre la politica che deve derivare dall'etica Grazie a tutti